Ok, e allora direi che ci siamo. Due banner con multi free, tre ticket viola, vediamo un po' quello che ci esce. Allora, free ticket, vediamo se abbiamo il miracolo ovviamente del free ticket, ma non credo proprio. Ah, arma dorata così. Infatti questa qua è quella di Galuf, è proprio un'arma totalmente a caso. Vabbè. Allora, apriamo multi summon, vediamo... niente, orb azzurra, però non è detto. Non è detto, orb azzurra... orb azzurra potrebbe dire tante cose, eh. Oh, vabbè. Vabbè, tutta roba che già qua abbiamo, quindi niente di interessante. Andiamo giù con la seconda free. Niente, sempre. Vabbè, qua... qua tecnicamente non mi serve niente, perché alla fine c'è la BT di Barts, quindi io la BT di Barts già ce l'ho. Diciamo che quello che mi interessa a me si trova nell'altro banner. Qui non... non c'è nulla di... non c'è nulla di interessante per me. Bello, Edward. Complimenti. Boh, via. Primo ticket viola. Vediamo se c'è la magia. No. Non c'è la magia. Non c'è la magia. Almeno, in questo prima ticket. Vabbè, io su First... sì, su First Sold. Ciao. Su Ever Crisis, nel momento in cui si potrà pullare, rerollo su Sephiroth fin quando non... fin quando non becco Sephiroth. Va bene, un'altra LD. Cioè, mi escono le LD da orb... dalla orb azzurra. Vabbè. Altra orb azzurra. Vediamo. Vediamo. Niente. Ultimo ticket viola. Madonna, non mi sono mai andati così male i ticket viola. Anzi, no, in realtà sì, effettivamente... Le ticket viola... Ho sculato qualche cosina, ma... poco e niente. Cioè, ho sculato di più con i ticket normali che con i ticket viola. Altre LDT d'Organ. Altre LDT d'Organ. Perfetto. Ottimo. Pieno di LDT d'Organ. Totalmente... Totalmente a casa. Va bene. Allora, buttiamo 5 ticket per la gloria. Tanto ho ancora i 200 degli Ifrit da poter prendere, quindi... Come ticket non ho problemi in nessun genere. Oh! Un'orbo dorata singola. Vediamo. Altre LDT d'Organ. Va bene. Ok. Ok. Ce l'ho già la LDT d'Organ. Ce l'ho. Ok? Cioè... Se... Se mi volete dare qualcosa che non c'ho di D'Organ, non è la LD. Io la LD ce l'ho. Così. Giusto per ricordarvelo. Ancora con queste LDT d'Organ. Niente, ragazzi. Proprio stasera è delirio LDT d'Organ. Orba azzurra. Vai, bitti dalla orba azzurra. No. Ah, 35 di D'Organ. Stavolta abbiamo cambiato. Ok. 35. Che poi da... Galuf è identico praticamente a D'Organ. È identico. Bello. Ah, qui c'è stato... Qui c'è stato un connecting un po' più lungo, eh. No, di D'Organ già ce l'ho la FR. Sto cercando la FR di Barz, tecnica. Perché la BT con i ticket va bene una volta, va bene due volte. Però è un po' esagerato. Ah, LD di Galuf, vabbè. Diciamo, è un po' esagerato tentare di cercarla per la terza volta. Però, se dovesse uscire, sinceramente, schifo non mi farebbe, eh. Attenzione. Non è che mi farebbe schifo, però. Diciamo che qua, più che altro, per completezza, mi prendo la FR di Barz. Giusto per avercela, ma... Visto che comunque i ticket li posso spendere per il momento. Niente, oggi tutto orbo azzurra. Oh, ok. Ok. Abbiamo un orbo viola. Abbiamo un orbo viola. Abbiamo un orbo viola. Se è la FR di Barz, va bene. Sì, vabbè, BT, buonanotte. No, no, senza sondaggino stavolta. Vabbè, BT di Dorgan e FR di Barz sarebbe perfetto, eh. C'erano dubbi su questo? C'erano dubbi? Non c'erano dubbi. Non c'erano dubbi. Non c'erano assolutamente dubbi. Ma poi le orbe azzurre. Cioè, guarda la prepotenza di ste orbe azzurre. Oh, attenzione! Attenzione col connecting! Col connecting! Col connecting! Da quant'è che non mi succedeva la BT col connecting? Quanto? Da quant'è? Da quant'è che non mi succedeva sta roba? Da quant'è che non mi succedeva sta roba? No, che c'entra? Col connecting è da un po' che non mi succedeva. Quindi è dalla scorsa volta. Col connecting era da un sacco che non mi succedeva connecting e poi orbe incazzata. E poi ha cambiato subito? Che cazzo di pull l'ha fatto? Ma che cazzo di pull l'ha fatto? Ma che cazzo di pull l'ho fatto? Ma che cazzo di pull l'ho fatto? Tra l'altro ha 800 ticket precisi. Ha 800 ticket precisi. Allucinante. Incredibile sta roba. È veramente allucinante. La pull perfetta. Questa è la pull per... Tra l'altro con i ticket. La pull perfetta. Allucinante. Vabbè. D'amma che sai.